Adesso, prima del ragionamento con voi, ho sentito l'altra sera al telegiornale che tanti cittadini delle zone terremotate dell'Emilia si lamentavano perché non hanno ricevuto un centesimo. Come non hanno ricevuto a oggi un centesimo le persone alluvionate dal 25 ottobre a Monterosso, a Vernazza, come addirittura diceva una signora a Genova intervistata all'Uvione dove ci sono anche i morti in via Fereggiano, non hanno visto niente, zero, solo parole. Anzi, gli unici soldi concreti, soldi veri che hanno visto, li hanno visti dalla parrocchia ottenuti grazie alla vendita delle magliette, furono vendute non so quante migliaia di magliette, poi anche lì fu fermata la vendita perché subito c'è chi le aveva taroccate e chi ci rubava sopra. Fu fermata la vendita, gli unici soldi che hanno visto gli abitanti a Genova, zona stadio, via Fereggiano sono quelli della parrocchia con la vendita delle magliette. Da altre fonti non c'è niente, niente in Emilia. Voi dite, ma tutti questi soldi stanziati, sentiamo tutti i giorni, la comunità europea 500 milioni, lo Stato 2 miliardi. Dove sono questi soldi? Sono soldi a voce, sono soldi per modo di dire, cioè sono soldi che alla fine al cittadino non finiranno mai. La casa se la deve ricostruire lui, quello che è crollato col terremoto. Non c'è scampo. Vi avevo già raccontato, i soldi dati con i nostri SMS non vanno mai alla vittima della tragedia. Vanno, ad esempio, nel caso degli SMS, vanno a una finanziaria della protezione civile che permette, garantisce poi dei prestiti, dalle banche, quando danno i prestiti a uno che vuole ricostruirsi la casa, gli fanno un mutuo agevolato. Ecco, questa agevolazione viene integrata con i soldi mandati dalle persone. Però alla fine i soldi le prendono le banche, non le prende l'ultimo il cittadino. Ecco, ma questo è normale.